Il lavoro svolto sinora ha consentito soltanto di tamponare la crisi della giustizia, a dirlo l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Salerno nel Presidente della Corte d'Appello Casale, per il quale la situazione resta allarmante, in particolare per i tempi di definizione dei processi, anche se non mancherebbero segnali incoraggianti legati all'impegno dei magistrati e del personale di cancelleria. Tutto questo a dispetto dei problemi di carenza di personale soliti che interessa in particolare Salerno, una situazione che non è migliorata con la soppressione del Tribunale di Sala Consilina, un aspetto fortemente penalizzante, sempre secondo il Presidente della Corte d'Appello per tutto il distretto. Il decreto attuativo della nuova organizzazione inoltre viene definito insufficiente, soltanto il proposto referendum popolare potrà eventualmente dare risposte concrete per riuscire ad ottenere un passo indietro. Impossibile poi non parlare del sovraffollamento delle carceri e dei problemi strutturali legati al mancato completamento della cittadella giudiziaria di Salerno. Questioni affrontate in diversi interventi dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati Montera al Procuratore Roberti. Dopo il rappresentante del Ministero e del Segretario Generale del CSM Dall'Oglio e del Procuratore Generale Di Pietro comunque è toccato al Presidente dell'Avvocatura salernitana che non ha risparmiato aspre critiche ed iniziate la stessa cerimonia dell'anno giudiziario definita l'inaugurazione del nulla. Rifiutando di leggere un testo preparato dalle associazioni nazionali, Montera è andato spesso a braccio criticando di immobilismo il Governo per i ritardi per il completamento della cittadella giudiziaria di Salerno. Un duro atto d'accusa quindi quello del Presidente anche per le normative contenute in destinazione Italia con una democrazia falsata anche se a Salerno ci sarebbe ancora un'avvocatura dalla schiena dritta. Per me vorrei sapere perché ad ogni inaugurazione interviene un rappresentante diverso rispetto agli anni precedenti. Mi sia consentito chiedervi ma quanti siete? Siete forse quei mille magistrati che mancano all'organico nazionale che un poco stanno al Ministero della Giustizia, un poco al Consiglio Superiore della Magistratura ed altri in Cassazione. Ma cosa fate oltre a leggere discorsi scondati e stereotipati, formulare i numeri di telefono per far caldeggiare all'inadeguato ed anche ingombrante Ministro un occhio di riguardi nei confronti di qualche eccellente pregiudicato che col denaro sottratto di risparmiatore ha probabilmente retribuito dei figli. Un intervento il suo dopo il quale tutti gli avvocati che portavano una coccarda al petto hanno lasciato l'Aula in segno di protesta contro il Ministero di Giustizia e del Governo. Di tono differente l'intervento del procuratore nazionale antimafia Franco Roberti che ha condiviso il grido d'allarme di Lucio Di Pietro sull'impotenza dei magistrati per rendere la giustizia più efficiente. Al tempo stesso ha rivendicato come una parte della giustizia italiana funzioni, quella che contrasta la criminalità mafiosa come attestato anche all'estero. Restano invece i problemi della giustizia ordinaria e in particolare civile che se funzionasse a dovere contribuirebbe a contrastare la criminalità e farebbe anche ripartire l'economia. Se funzionasse, se fosse efficace, se fosse tempestiva darebbe anche una grande mano nel contrasto alla criminalità e sarebbe soprattutto fattore di sviluppo. Quello che forse si dice poco nel nostro Paese è che fin quando non ci sarà una giustizia che funziona, non ci sarà mai un vero sviluppo economico, non ci sarà mai crescita sociale ed economica nel nostro Paese. Sulla sovraffollamento carcerario poi Roberti ha semplicemente auspicato la costruzione di carceri più adeguate. Sovraffollamento al centro anche della protesta dei radicali che per la prima volta non si sono limitati ai sit-in ma hanno preso parte attivamente alla manifestazione. L'Europa ci condanna entro il 28 di maggio se non rientriamo nella legalità. Il presidente napolitano ha un urlo nel suo messaggio, è fatto, obbligo. Il 29 parleremo di questo. Noi interverremo per parlare del messaggio del presidente della Repubblica e per sostenere l'amnistia, l'amnistia per la Repubblica e l'indulto.